Il nuovo piano sociale della regione Abruzzo avrà una dotazione complessiva di oltre 450 milioni di euro, triplicata rispetto alla precedente 2015-2018. La previsione di spesa pro capite per ogni abruzzese è salita da 92,81 euro rispetto a quella del 2018 che era pari a 73,22 euro e del 2016 che raggiungeva una media di 67,16 euro come spesa pro capite. Il piano rappresenta una sfida di innovazione e di miglioramento dei servizi sociosanitari, sociolavorativi per l'inclusione ed il sostegno alla povertà con la spesa in carica di tutte le fragilità e le emergenze sociali in un momento molto delicato come questo. Grande velocità, in poche settimane siamo passati dall'approvazione della delibera in giunta all'approvazione della legge in consiglio regionale, è stata appunto una prova di grande maturità e di grande compattezza. Il risultato per l'assessore regionale con delega al sociale Pietro Quaresimale è il frutto di una larga e partecipata consultazione a partire da una cabina di regia composta da oltre 70 attori sociali delle diverse aree pubbliche e private rappresentative del settore sociale e sociosanitario, dalle professioni e degli ordini professionali, del mondo accademico universitario, delle asle, del volontariato e terzo settore, compreso l'osservatorio regionale per il disagio mentale. Quindi sicuramente è uno strumento importante che permetterà alla regione Abruzzo di dare risposte alle esigenze delle fasce più deboli, come dicevo prima, quindi sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto insieme agli uffici, ringrazio il presidente Marsiglio, lo givente del consiglio regionale che l'altro giorno appunto ha deliberato l'approvazione dopo aver fatto tutto l'iter delle commissioni, e quindi sicuramente un risultato importante che ci aspettavamo ed è arrivato, nonostante le tante criticità che abbiamo riscontrato sul territorio a causa del Covid, che ci ha rallentato un po' il percorso.